Ciao cari sposi, benvenuti a questa nuova puntata del podcast dove andrò a leggere quello che è l'articolo di oggi che potete trovare su matrimoniocristiano.org. Il titolo dell'articolo di oggi è Una sessualità redenta. Nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II emerge un'importante prospettiva sul matrimonio come sacramento del corpo, ma non solo, ed è la sua redenzione. Questa prospettiva non è solo di natura sacramentale, ma ha anche profonde implicazioni etiche e sostanziali che permeano le sue riflessioni. L'idea che il matrimonio sia non solo un sacramento del corpo, ma anche della redenzione del corpo stesso, sottolinea l'importanza e la santità dell'unione matrimoniale. Questa visione incarna il significato profondo dell'amore coniugale e della responsabilità reciproca tra i coniugi, offrendo una nuova luce sulla dimensione sacramentale della vita coniugale e della sessualità. San Giovanni Paolo II ci insegna che non possiamo fare esperienza di Dio se il nostro cuore è chiuso, se il nostro cuore è indurito dall'egoismo, dal peccato, dalla lussuria e da tutti quegli atteggiamenti che fanno dell'altro una cosa da usare e da sottomettere a noi, e non una persona da incontrare in una relazione d'amore. Il sesso è spesso un terreno in cui emergono l'egoismo e il desiderio di possedere e usare l'altro a proprio piacimento. Chi è chiuso in se stesso non riesce a donarsi e a entrare in comunione veramente con l'altro. A volte si maschera tutto questo di tenerezza e romanticismo, ma è solo un'apparenza falsa. Molte volte chi si comporta in questo modo non è neanche consapevole della falsità dei propri sentimenti. Giovanni Paolo II ci insegna che il matrimonio può essere un sacramento di redenzione anche in questo contesto. L'eros, canalizzato in una relazione oblativa, cioè di dono, come quella nuziale, diventa un vero desiderio d'incontro, una comunione. La vita di tutti i giorni fatta di servizio, di cura reciproca, di gesti carichi di tenerezza e di riguardo, dovrebbe in un certo senso diventare educativa. Con il tempo e con la grazia di Dio, naturalmente, noi sposi dovremmo riuscire ad eliminare l'egoismo che attanaglia il nostro cuore. Ce l'abbiamo tutti, e sia chiaro. Piano piano il nostro sguardo dovrebbe spostarsi dall'io al tu. Dovremmo essere sempre più capaci di guardare l'altro e desiderare il suo bene. Uso il condizionare perché spesso non viviamo il nostro matrimonio dando tutto in questo modo. Una relazione sponsale vissuta davvero fino in fondo non può che cambiarci in meglio e rendere noi sempre più capaci di donarci, renderci in una parola più cristiana. Tutto questo lo portiamo anche nell'incontro intimo. Saremo sempre più capaci di liberarci dall'egoismo e dalla lussuria. E l'amplesso? Il nostro incontro intimo sarà sempre più un vero incontro, una comunione tra noi sposi, e ci permetterà sempre, nello stesso tempo, di fare esperienza di Dio, sempre di più. Per questo gli sposi che vivono l'amore sponsale in pienezza non si stancano mai di fare l'amore. Sarà ogni volta più bello perché loro saranno sempre più capaci di amarsi. Così la vita di tutti i giorni, fatta di tanti piccoli gesti, nutre il desiderio erotico. E l'eros, vissuto come incontro profondo, come una grande comunione, che è la bellezza più grande che ci può essere nell'incontro intimo, nutre il desiderio di amare il nostro coniuge, nella vita di tutti i giorni. Un circolo virtuoso che ci permette di perfezionare sempre più il nostro amore tra marito e moglie e nello stesso tempo anche il nostro amore con Dio. Ci avvicina sempre di più a Gesù perché amandoci in quel modo facciamo esperienza dell'amore di Dio. Ciao cari sposi, ci vediamo alla prossima!